Bella raga, Inter Spal 2 a 0, finalmente torniamo alla vittoria dopo le partite con Cagliari, Fiorentina, vabbè quella l'avevamo vinta comunque, e entra anche Francoforte, vittoria che ovviamente è molto importante, molto importante e sappiamo tutti perché, perché stiamo lottando punto a punto ormai praticamente. Primo tempo così così, niente di strepitoso, niente di che, ma me l'aspettavo perché il pubblico ha fischiato un po' troppo nel primo tempo, inutile girarsi troppo attorno, purtroppo ve l'ho spiegato 180.000 volte, questi giocatori sono un po' mosce a livello di personalità e l'assento, la pressione, e quando San Siro Mugugna inizia a fischiare accusano, c'è poco da fare. Var con noi sempre impeccabile, quando ci deve togliere le cose è sempre impeccabile, perfetto, controllo dal millimetro, anche con Politano la perfezione. A Verona col Chievo non è stato proprio perfetto, perché ho visto qualche zappata sul secondo gol, gioco pericoloso, clamoroso, però lì non era perfetto. Con noi, quando c'è da cavare, è sempre perfetto, mi fa molto piacere, mi fa molto piacere. Continuate così, perché io lo so, io lo so che l'Inter sta sui coglioni alla maggior parte, lo so, vi rodo il culo, e quindi so che oggi è una giornata di merda per tanti in Italia, e godo, godo per questo, perché l'Inter sta sui coglioni, perché noi siamo meglio di voi, e quindi godo, godo nel vostro rodimento di culo. Oggi abbiamo vinto, vi rodo il culo. Noi non abbiamo fatto niente di speciale per vincere, ovvio, ci abbiamo messo poco del nostro. Questa partita, la nostra vittoria, si può spiegare grazie alla scarsezza della Spal, perché se l'abbiamo vinta è merito di quanto è scarsa la Spal, perché non ha mai tirato in porta. Spalletti ha fatto ruotare i giocatori, ha voluto dare un turno di riposo a Skriniar, mettendo prima Miranda e poi anche Ranocchia, quindi proprio non lo voleva far giocare, e alla fine ha avuto ragione. Ha fatto giocare Dalbert, Gagliardini e Joao Meravigliau. Io adoro vedere giocare Joao Meravigliau, ragazzi, per me è sempre una gioia. Quella grinta che ci mette Joao Meravigliau, quei contrasti belli, belli cazzuti che fa la Polins, non so, vi ricordate Polins? Joao Meravigliau entra come Polins, guarda, quello che prende, prende. Comunque ha fatto bene alla fine fargli giocare perché sono quelli fuori dalla lista UEFA, quindi ovviamente questo possiamo raccattare dalla panchina, questo possiamo raccattare dalla rosa e giustamente cerca di far rifiattare, nella speranza di tirare fuori una bella prestazione contro l'Eintracht di Francoforte, perché noi ancora giochiamo in Europa fino a giovedì, poi si vedrà. Noi siamo lì fino a giovedì, poi si vedrà. Altri sono a casa, ma noi siamo ancora lì. Almeno per tre giorni, poi vedremo. Ovviamente, ripeto, bisogna anche andare a giugno a prendere dei giocatori, fondamentalmente anche oggi, guardando la partita per Nesiotto, è venuto in mente quando cazzo ritroveremo qualcuno che sa battere i calci d'angolo o le punizioni. Noi chiamavamo gente come Recoba, come Mijailovic, che tirava punizioni, i calci d'angolo in maniera fantastica, Adriano che tirava delle sassate spaventose. Abbiamo avuto fior fior di giocatori, adesso ragazzi sono anni, anni, dopo Snyder che c'è il vuoto, il vuoto più totale. Calci d'angolo, punizioni, battuti corti perché non c'è uno buono a batterli in mezzo. Punizioni che, se non ce le danno, è la stessa roba, perché quasi quasi è meglio che te la fanno andare sul laterale, ti danno il vantaggio se stai crossando, che se devi battere la punizione al limite, che facciamo cagare. E vabbè, speriamo che quest'estate si riesca a porre rimedio. Non è facile trovarli, mi rendo conto, ma servirebbe trovarli. La vittoria alla fine è ovviamente importante in Chiave Champions, anche perché il Torino, l'Atalanta, poi vedremo la Roma, ma la stessa Lazio che due partite indietro non riusciamo a schiodarcele dai coglioni proprio. A parte Napoli e Milan che sono già qualificate, noi purtroppo ce la dobbiamo sudare. Comunque ragazzi, per il finale volevo aprire una piccola parentesi, perché quello che vedo durante la settimana è roba vomitevole. Io non amo parlare di Cardi e Vannanara, però voglio dire solamente che uno che chiama il mediatore, il mediatore, l'avvocato, dopo che prende 5 milioni all'anno, per tornare a giocare, o per tornare ad allenarci in gruppo come minimo, merita solo la merda. Merita solo la merda. Durante la settimana è uscito, ma lì c'è stato con Spalletti la multa, prima la dava, poi non la ritirava. Non me ne frega un cazzo. Uno che finge l'infortunio perché prima giocava e poi improvvisamente appena gli ha tolto la fascia al capitano si è infiammato il ginocchio. Uno che chiama il mediatore, ragazzi, ma che cazzo gli vogliamo dire? Io spero vivamente che Suning lo prenda, lo sbatta a giocare in Cina e la notte e la sera gli vado a far fare il turno di notte a montare i frigoriferi alla catena di montaggio, porca puttana. Così lo vede lì se chiama il mediatore, il mediatore per tornare a giocare. Spero questo perché ancora ha due anni di contratto. In caso contrario, la mia frase rimane sempre la stessa. Cara Vanda, sono 110 milioni. Grazie e alla cassa. Portali e vandate dove cazzo volete. Detto questo, godiamoci quattro giorni di relax e come sempre, bella raga, per me c'è solo l'Inter. Quattro giorni di fatto. Grazie.